Minza, una giovane ed esuberante ragazza della famiglia Bazzon. Nel 1954 aveva avuto una relazione fugace con un soldato britannico di stanza nella zona A del territorio libero di Trieste. Il nome dell'amante misterioso non fu mai reso noto dalla Minza, la quale, con pesanti allusioni scherzose, usava dire di non sapere riconoscere da un peto quanti fagioli stavano nella minestra. Sta di fatto che la gravidanza venne tenuta nascosta fino alla fine, e il parto avvenne nella stalla della famiglia Bennet, al caldo del fieno e sotto lo sguardo benevolo degli animali da Soma. La giovane donna, che lavorava per mantenersi, non potendo tenere il neonato, lo lasciò all'amica Mina, e il marito Iose ne regolarizzò la nascita come figlio proprio. Il bambino crebbe così nell'inganno, fino a quando, ormai adulto, non rinvenne, tra le carte della madre adottiva, dentro una scatola di latta gelosamente conservata, alcune lettere di corrispondenza che lasciavano intuire qualche trascorso di parentela. In una lettera si parlava della partoriente e del nascituro che avevano una identica voglia sul collo, dietro l'orecchio destro. D'altra parte, i genitori avevano entrambi gli occhi molto chiari, mentre la donna nella foto aveva le iri di color nocciola e comunque scure. E perché quel bigliettino in inglese con la scritta TLT? Bennett prima di fare altre mosse aveva svolto delle ricerche per poter effettuare l'esame del DNA.